oh secondo episodio di beh older fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto il primo e niente ora andiamo avanti non prima di aver visto cosa la figlia di carl vuoi giocare con me non ora marta e allora giocattolo perso chiedite della casa cosa è successo tesoro è successa una cosa brutta papà ho perso naira non la trovo da nessuna parte chi è naira la mia bambola la bambola preferite trovarla ci ho giocato l'ultima volta a casa di naira è troppo piccola per andare fuori trova ti prego quindi a quanto credo ha perso la bambola e allora segreti rilevati azioni richieste vabbè per ora della bambola ce ne freghiamo e andiamo avanti allora parla con la moglie di skimmer e allora la moglie di skimmer dove sarà mai saliamo su allora rosa non è lei innanzitutto cerchiamo di capire dove abita su skimmer e allora è lui appartamento 1 ottimo chiuditi bussiamo ah comunque il suono di questo gioco è veramente una cosa orrenda assordante specialmente quando spunta i autobus penso che non ci sia nessuno o meglio forse è troppo tardi sono le 7 e allora qua c'è lui salve e allora fai conoscenza salve mi chiamo carlo sono il nuovo amministratore bla 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 io sono claus lei gestire il condominio che prima appartenava alla mia famiglia il vecchio amministratore l'ha ridotto a un porcile spero che lei possa sistemarlo me lo auguro anch'io farò del mio meglio e allora chiedi del condominio chiedi dei sospetti delle autorità va chiedi del condominio lo stabile apparteneva a lei si apparteneva alla mia famiglia volevo trasformarlo in un ostello per bambini talentuosi ma è stato convertito in un condominio non è così male ma ha visto i quartieri esenziali livello di ha ragione potrebbe andarci peggio almeno noi siamo liberi si può tranquillamente giocare a scacchi è una libertà che costa ok abbiamo acquisito 75 punti di autorità la moglie a quanto sembra non c'è però può essere che torna qua con l'autobus e allora con lui forse non ci doveva neanche parlare rosa ramec ranec l'avevo vista mi è passata proprio davanti poco fa e io non ci ho parlato da bravo deficiente e allora vediamo chi è lui no vabbè è il figlio e allora eccola qua la moglie dovrebbe essere lei yes e allora buongiorno buongiorno fai conoscenza salve signora lasci che mi presenti mi chiamo carlo sono il nuovo amministratore mi chiamo rosa ramec piacerebbe riconoscerla ok deve aver già conosciuto quel burbero di mio marito no almeno non mi ricordo abbiamo anche un figlio è proprio come lei ma vive nella capitale ok chiediamo di claus vorrei chiedergli il claus per caso vi disturba è proprio una persona di valore mi ha aiutato ad ottenere una bella bottiglia di sherry ok è un esperto divino a differenza del mio vecchio oppla allora gli abbiamo chiesto informazioni quindi ora devo parlare con mark vediamo di trovarlo allora io ho sbagliato perché devo parlare con mark che si trova al piano superiore quindi facciamo finta come se non ti ho bussato e saliamo qua si se però sali velocemente mi aiuteresti oh e allora intanto terza settimana non so neanche dovrebbe essere lui arriva a una velocità incredibile mai vista oh ecco qua mark cosa vuole da uno stimato archivista ok chiediamo di claus vorrei chiederle di claus e perché me lo chiede il gioco quindi dire la verità sull'incarico dai una risposta vaga diamo una risposta vaga non so niente che lei non sappia inoltre la curiosità è un peccato grave aveva un collega che ficcava continuamente il naso negli affari degli altri e nei documenti degli altri chiedi cosa è successo è stato mandato in prigione ha scoperto più di quanto avrebbe dovuto arrivederci giovanotto ok non abbiamo ottenuto grandi informazioni da lui sinceramente quindi vediamo cosa mi dice la direttiva parla con la moglie di Skinner ok Skimmer insomma come si pronuncia allora vediamo un po' ovviamente non entro perché ci sono loro dentro il problema è oh perfetto sta venendo lei ok salve fai conoscenza al solito salve mi chiamo Carlo sono il mio amministratore bla 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 piacere di conoscerla ha portato qui la sua famiglia ci siamo appena trasferiti saremo lieti di fare la vostra conoscenza ok chiedi al marito come sta suo marito sembrava turbato non sta bene ma ha ricevuto un pacco contente della pellicola a Klaus piace fare foto questo lo tirò su di morale ok altri 75 punti dunque allora devo redigere il profilo di Klaus sperando di non consumarlo a questo punto e allora reggiamo il rapporto intanto sul povero Klaus oh e allora lui scrive un rapporto abbiamo detto Klaus Skinner appartamento number one violazione direttiva e boh non lo so che violazione abbiamo riscontrato penso a nessuno direzione direttiva vediamo un pochettino cosa è proibito a questo punto libri di Paul vabbè la droga bla 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 ma onestamente forse prima di redigere il rapporto mi servirebbe qualche prova in più perché non è che abbiamo un granché che gli dico ah ecco redigi un profilo vabbè e allora Klaus appartamento number one uomo stato civile direi che è sposato con Maria Maria professione professione abbiamo detto che dovrebbe essere insegnante se non mi ricordo male fatemi controllare e infatti ricordavo male è tabaccaio ok trascina qui gli elementi raccolti uno due e tre hopla va bene invia ok abbiamo fatto il rapportino allora componi un numero fai il rapporto al ministero ministero dell'ordine è tempo di agire compagno Carl devi dare lo sfratto a Klaus Schimmer ottimo chiedi metodi dei metodi di sfratto chiedi della moglie di Skinner che ne sarà di sua moglie di lei non ci importa fa come ritieni meglio come faccio a dare lo sfratto a Schimmer parla a Schimmer e noi sta bene se va via ma sarebbe meglio che lo denunciassi nel caso violasse qualche direttiva è il tuo dovere compagno Carl ok qua vedo sta cosa della polizia che lampeggia ma non riesco a capire sinceramente perché e per come allora parla con tua moglie parliamo con questa benedetta moglie cosa c'è Carl problemi domestici parla della bambola di Marta hai visto quella vecchia bambola con cui giocava sempre Marta non riesce a trovarla ecco perché è così triste e ha paura di parlarmi forse dietro l'armadio o sotto il letto ok problemi domestici il tuo aiuto tesoro non riesco a trovare la nostra pentola grande ho guardato in ogni angolo ma non ho idea di dove sia forse qualcuno l'ha rubata dovremmo chiamare la polizia chiamare la polizia per una vecchia pentola non pensarci nemmeno l'avrei lasciata nella vecchia casa va bene se lo dici tu per chiedere agli inquilini di prestarti una pentola spero non rinunciare bla 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 ok quindi dobbiamo chiedere una pentola vediamo se la posso chiedere di attento a lei ok è un medico non hai sentito parlare di lei buh ho sentito parlare ok bla 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 vabbè dialogo inutile sostanzialmente chiedi come va a fare conoscenza salutiamoci oh e allora a questo punto direi Anna vuole prestare una pentola dai vicini io però ho questa direttiva trovo un modo per sfrattare Klaus Skin dall'appartamento purtroppo lo dobbiamo sfrattare però mi servono a questo punto delle prove io direi di comprare una telecamera ok credo che non ci sia nessuno quindi questo è il momento giusto per entrare e io direi di metterla qua così vediamo un pochettino meglio la situation e anche se ne compro subito un'altra ok e la mettiamo anche qua tanto a raggio corto mi fa vedere davanti al telefono praticamente ok a questo punto già che ci sono vedo se riesco a trovare prove e allora libro non è appuntato passaporto spazzolino ok direi di uscire perfetto non mi ha visto stranamente sta andando giù vediamo cosa c'è qua intanto nella casella della posta il ministro dell'ordine hanno dato un crescente interesse verso i libri di argomento filosofico bla 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 ok e allora scendiamo giù parla con tuo figlio l'abbiamo qua quindi ne approfittiamo ok e allora si papà ti serve qualcosa o un problema e qua no è tutta una famiglia di problemi sono iniziate oggi proprio posso parlare l'elezione economia e ci è stata data una lista di libri da leggere ottimo i libri non verranno studiati ho fatto un salto in libreria ma non ce non ce li hanno quei libri mi hanno detto che potessero essere usati nel mercato vabbè insomma vuole trovare un libro ok così ci siamo messi un'altra rogna di sopra e allora salve chiedi della pentola potrei chiedere un favore prima di sfrattarla mia moglie vorrebbe preparare una composta ma abbiamo perso la nostra pentola durante il trasloco ho una pentola adatta eccola qua va bene grazie no non lo siamo mai ce l'ha regalata per giunta vedi che bello io sfratto la gente e loro mi prestano le pentole ok allora io direi di parlare con il tizio e gli comunichiamo che se ne deve andare salve chiedere la pentola no ah posso chiederti del libro di patrick quindi scrocchiamo anche il libro ok ti risparmi i dialoghi oh mi hai salvato mio figlio ok chiedi cosa ha bisogno chiedere la pentola chiedi cosa ha bisogno è stato incaricato di spiarmi minaccia di dare lo sfratto parlo dell'usine del ministero minaccia di dare lo sfratto è finita per lei le capie di borghese attenzione mi è stato ordinato di darle lo sfratto una sola mossa sbagliata e si troverà sull'astrico le consiglio di fare i bagagli e andarsene di qui pacificamente voleva darmi lo sfratto è un suo diritto ma non può farlo senza motivo mi è stato detto che lei mi spia è la verità giustificati lei lavora per il governo carlo da lei ci si può aspettare di tutto lei mi ha deluso non abbiamo niente da dirci ok ottimo abbiamo deluso il primo inquilino e allora però intanto ho risolto qua il discorso del libro si papà come faccio a dartelo parla del libro dell'università ci sono riguardo dei libri ecco i libri oh perfetto ottimo 50 punti autorità non so ancora cosa farmene però e allora parla della pentola hai trovato la pentola si Maria ok sembrava acqua perché non aveva né zucchero né mele non è colpa mia se ne hai ottenuto la tessera per lo zucchero ok 50 punti guadagnati ah posso guardare pure qua non l'avevo visto che ci sono pure queste possibilità allora vediamo se troviamo sta benedetta bambola nuova direttiva ricevuta vediamo di cosa si tratta la fiducia del figlio bla 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 ah vabbè si sempre la bambola e allora la moglie mi diceva di vedere vicino all'armadio diamo uno sguardo ho trovato la bambola la vecchia bambola la prendi e allora la bambina dov'è la bambina la picciuna la picciuna dov'è mi pare che l'avevo vista qua no questo è un tenero vecchietto e allora il tenero vecchietto buh vabbè un giorno tornerà allora andiamo a spiare il nostro caro amichetto che non lo so se il figlio c'è per una dieci ore e allora diamo uno sguardo c'è qualcuno che dorme nel letto va bene ok Marta ha perso la sua bambola si se Marta torna io volentieri do la bambola non è un problema forse però si sono messi al letto si credo che qua dorma la bambina o là dentro quindi e allora fammi vedere un attimo le direttive chiamo il ministero del comune il completamento dell'incarico ah vabbè questi sono quelli vecchi ok quindi mi resta solo di dare la bambola alla figlia ma nel frattempo parliamo con questo simpatico vecchietto questionata archivista chiede della moglie Rosa lavora alla mensa sta sempre in cucina lei piace così tanto sfornare pane e dolci che lo fa per mestiere vorrei non puzzasse di cavolo ottimo ok allora fammi vedere un attimo qua posso mandare avanti si accelera praticamente così magari si sveglia la creatura oh fammi correre subito qua perché quello si è svegliato si sono svegliati e ora li posso spiare ok la moglie mi ha aperto la porta rovinandomi l'appostamento e allora tv l'orologio va non stanno facendo niente di particolare ok allora mancano prove sono usciti entriamo a quanto credo stanno andando al lavoro quindi abbiamo una bella occasione per sbirciare zoomiamo così ci vediamo meglio e allora lettera all'estero è una lettera proprio quello straniero raccolta informazioni queste non ci interessano niente ok non capisco perché mi dice ruba ma che me ne devo fare allora vediamo passaporto non c'è nulla di interessante ma praticamente me li segnala in rosso lui quelli che mi interessano pianoforte non credo di trovare nulla però alle volte e allora il diario personale dell'inquilino scacchi e libri ok vediamo nella televisione però qua devo zoomare di meno che se entrano li devo vedere tabacco wow questo si che è una prova e allora informazioni raccolte va bene veloci 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 modelli di nave ok il pettine no libri non ci interessano caffettiera turca ma quanti vizi signori miei allora andiamo qua qua mi devo sbrigare uscire sicuramente pittura violazione dell'articolo 1 di van gogh fatemi fatevi dare uno sguardo veloce qua va bene era il figlio che tornava e allora oggi episodio proprio pazzerello tanto poi non si riguarda nessuno questi episodi e mi ritrovo a parlare io da solo e allora maschera da teatro ok caro carl svignatela cioè più che altro ho raccolto informazioni sulla moglie quindi posso fare un bel profilo sulla moglie ma prima diamo la bambola a mia figlia vuoi giocare con me no cara e la bambolina come te la do vecchia bambola mia moglie giocava con questa bambola piccola ora ci gioca nostra figlia ok e dagliela però vuoi giocare con me no ah forse allora la devo dare alla moglie a questo punto la bambola attenzione non pensare male Anna Stain scopri cos'è successo cos'è successo Marta è malata caro non abbiamo medicini in casa potresti trovare dell'aspirina per nostra figlia ho aspettato un secolo in fila solo per scoprire che mi serviva una prescrizione certo e lo troverò Marta sta molto male no ma solo la febbre mi piace come si sente ok mi pare che c'era un medico però nell'appartamento 2 gli avevamo affittato noi un medico possiamo ok Marta è malata aver giunto ho 29 ore per poterlo risolvere ok il medico non c'è scendiamo giù e allora lei è malata la bambola a quanto pare non la vuole più non lo so e allora vediamo di sistemare stu profilo aggiungendo questa informazione che ho trovato e allora redigi un rapporto a questo punto io però lo redigerei sulla signora ok appartamento 1 donna stato civile vive con Klaus professione mi ha detto che era b insegnante di letteratura quanto è bello poter leggere allora trasciniamo quest che sono praticamente tutte informazioni della moglie e lo inviamo non mi era stato richiesto però sempre meglio di niente e allora trovo un modo per sfrattarlo ma come lo sfratto trovo un modo per sfrattarlo perché non ho alcuna prova su di lui quindi è dura questa veramente dura nuovo obiettivo direttiva governativa ricevuta oggi proprio non so parlare allora fammi vedere un poco a questo punto mi serviva forse una terza telecamera per poter osservare meglio e allora il dottore è tornato fammi bussare subito perché sicuramente parlandoci mi darà la medicina o quantomeno lo posso acquistare tanto sono pieno di soldi non è un problema oh il dottore è arrivato e allora salve chiedi come va chiedi dell'aspirina buongiorno proprio dell'aspirina così proprio a schiaffo perché tutti vogliono quelle pillole potrebbe procurarsele purtroppo no mi dispiace molto carl ma non sono autorizzato a prescrivere o farmi mandare farmaci deve andare all'ospedale o barattare l'aspirina con qualcuno a cui non serve vediamo chiedi come va tutto bene molto molto impegnato i pazienti fanno a gara per avermi lei è un medico proprio così non c'è da dubitarne potrei curare perfino un uomo sano specialmente un uomo sano direi ha una laurea sta scherzando ho dedicato tutta la mia vita a curare le persone vabbè dialogo direi totalmente inutile il mio amico quando fa freddo ah mi ha dato una bottiglia di whisky così totalmente a caso chiede se ci sono una verità fermare due chiacchie incidente bla 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 vediamo se mi da le spirine ok non me le da vediamo se lui me le vende però oh prego commercia cosa vende oggi dai un'occhiata ed ecco qua le aspirine perfetto e allora compra ok vendiamo il whisky tanto non me ne faccio niente ok perfetto risolto andiamo giù e penso che le devo dare alla moglie ok Anna Stein cosa c'è Carl cioccolatini parla della salute di Marte e dell'aspirina hai trovato l'aspirina è peggiorata si prende si tratta solo di influenza sono stati malati questi tempi ok penso si sentirà meglio fra qualche giorno oh la bambola invece non la vuole più a quanto pare parlato con i vicini di Carl sono molto gentili mi hanno detto uno con il cilindro si è a girare vicino a casa di tanto in tanto da lui si possono comprare delle cose mhm e infatti ci ho preso le aspirine quindi oh hai bisogno del sapone abbiamo ancora un'intera scatola di sapone alcatrano ho preso con le nostre tessere ok va bene forse voleva i cioccolatini allora deve comprare i cioccolatini dal mercante e darli a mia moglie ok allora io direi di comprare i cioccolatini e poi ci possiamo direttamente salutare ah ok se n'è andato niente quindi ci salutiamo direttamente ora però prima di salutarci visto che è uscito il tizio direi di dare un ultimo sguardo nell'appartamento e allora e allora rivediamo i soliti posti magari mi è sfuggito qualcosa e allora cappello di feltro la lettera l'avevo vista il libretto non c'era niente interessante nel pianoforte c'era il diario ma non me ne faccio niente il diario personale è di un inquilino e allora a questo punto mettiamo altre due telecamere uno e due e vediamo cosa possiamo ottenere ok stiamo attenti se non ritorna perché in qualche modo dobbiamo pur fare e allora asciugamano non mi interessa un famoso romanzo la borsa e questo l'avevamo già visto ah la sedia mi era sfuggita giustamente nella sedia ci cercano sempre oggetti notizie oh è legato a postare questi libri perfetto altro libro che non va bene qua credo che si possa scendere si ok va bene usciamo e a questo punto posso aggiungere le prove raccolte oh va bene aggiungiamo le prove raccolte a questo punto qua la bambina piange vuoi giocare con me non ora Marta chiede cioccolatini vabbè non gli interessa perfetto e allora facciamo il rapporto zoomiamo un altro poco e allora allora redigi un profilo anche se già l'avevo fatto però quindi credo che eh ecco scrivi un rapporto Klaus Skinner appartamento 1 eh i libri che violazione era violazione 6041 6041 6041 del 2 settembre dell'84 ok e poi ci trasciniamo questo perfetto addio rapporto rifiutato dati errati prove prove non valide ah perché era della della moglie allora ok appartamento 1 violazione abbiamo detto che era 6041 ok e infatti si è della moglie oh stavolta infatti l'ha l'ha accettata ricevuto 450 dollari ottimo credo che stanno venendo ad arrestarla si ok non so non so non so non so se arrestano pure lui ma credo che arrestano solo la moglie oh ok meno 1 vediamo la direttiva di comprare cioccolatini ne approfitto subito perché c'è il venditore e però ancora non ho risolto il discorso dello sfratto e allora prego commercia cosa vendi oggi cioccolatini cioccolatini non ne vedo c'è la cioccolata c'è la cioccolata compriamo la cioccolata ok va bene io direi che per questo episodio può finire qui come sempre ti invito a seguirmi sul mio profilo twitter poi sul profilo instagram e ovviamente iscriverti al canale telegram per non perdere nessun feed quando pubblico un video ciao 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 Grazie a tutti